Grazie Presidente. La Camera respinge. 4.12 contrario, 4.13 e 4.14 parere contrario, 4.15 e 4.63 analoghi, invito al ritiro. Grazie Presidente. Grazie. La Camera respinge. La deputata Dadone chiede di intervenire, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ho chiuso la votazione. La Camera respinge. Grazie. La Camera respinge. Grazie a tutti